Nuova visita degli uomini della Questura di Salerno nel municipio della città di Agropoli. Dopo il blitz dello scorso maggio, questa mattina agenti della Polizia in Borghese sono ritornati nella Casa Comunale per prelevare altri documenti della Società del Comune Agropoli Cilento Servizi e atti contabili dell'amministrazione. Da Palazzo di Città arrivano subito parole di tranquillità da parte del primo cittadino agropolesi, Adamo Coppola, che ha definito la presenza della squadra mobile in municipio come normale attività di accertamento, allontanando l'allarmismo che si è creato con la notizia e parla di controlli in continuità a quelli che si sono verificati alcuni mesi fa. Quindi dal Comune arrivano smentite e si invita alla calma, ma intanto l'alone della Questura su Agropoli è sempre presente.